La macchina ibrida, quella che va anche... Ecco qua. Beh, questa la potevi proprio immaginare a vedere. Ecco. In giro con queste biciclette particolari. Ha cambiato colore? Delle volte noi dall'albergo siamo scesse a piedi qui al lago, che ti riporta su. Quindi uno a scendere è facile, non ti affatichi. A risalire è tutto l'estate pesante.